Cibus 2018 ci troviamo allo stand dell'Acqua Santa di Roma proprietaria del marchio Egeria e siamo in compagnia di Daniela Cristiani che è il direttore commerciale dell'azienda Buongiorno Daniela Buongiorno a lei Diciamo intanto qual è la storia del brand di Egeria Egeria è una storia molto antica perché nasce all'epoca di Numa Pompiglio quindi siamo veramente molto lontani nella storia amante e innamorato della ninfageria dalla quale poi sgorga per merito della Dea Diana la fonte dal 48 la fonte è di proprietà della famiglia Mari che di nonno oggi ai nipoti ha proseguito l'attività e sono molto orgogliosi di proseguire l'attività di famiglia Voi siete molto presenti in alcuni territori in particolar modo Lazio, Campania, parte dell'Umbria e siete ben radicati sia nel segmento del retail GDO che nel segmento dell'oreca e del vending ma avete una mission importante quella di espandervi in altre regioni Sicuramente siamo radicati laddove nasce quindi siamo padroni del territorio che ci riconosce anche una buona leadership del mercato vogliamo farci conoscere anche un po' fuori dai confini del nostro attuale pubblico e consumatore La nostra mission è quella di far vedere il nostro prodotto di alta qualità ha ricevuto anche un premio di eccellenza italiana da una commissione all'estero e vogliamo far conoscere questo prezioso prodotto tutto made in Italy sul territorio nazionale e anche all'estero Qual è il formato particolarmente indicato per l'oreca? Il vetro è vetro, io non posso che continuare a spendere parole perché l'acqua in vetro è veramente l'eccellenza come diceva una vecchia pubblicità non ha odore, non ha sapore, è trasparente, si vede tutto ed ha la massima qualità anche se la plastica oggi giorno ha raggiunto dei livelli anche di qualità e di tenuta del tutto affidabili Tra le tue mani c'è una bottiglia infatti in P&T che voi destinate al mercato della distribuzione automatica e in parte del fuoricasa Sì, l'acqua da mezzo litro oramai è diventato un oggetto che abbiamo tutti per le mani in macchina, nella borsa, sulla scrivania dell'ufficio perché in qualunque momento della giornata dobbiamo reintegrare i liquidi che perdiamo ma soprattutto e dico soprattutto i sali minerali dei quali la nostra acqua è ricchissima Ricchissima infatti ed era quello che appunto volevo farti dire subito dopo Daniela, per chiunque si trovi dall'altra parte e desidera entrare in contatto con voi per rappresentarvi in una parte del territorio in cui non siete presenti intraprendere una partnership commerciale con la vostra azienda o magari saperne semplicemente di più qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto con voi? Innanzitutto il nostro sito sul quale abbiamo fatto un restyling bello, soddisfacente, consistente con tutte le informazioni sul prodotto, sulla storia dell'azienda e dove potete trovare tutte le informazioni inerenti alla nostra storia e ai nostri contatti www.eggeria.it per quelli che possono essere contatti diretti di natura commerciale molto semplice da ricordare commerciale chiocciolaeggeria.it davvero estremamente semplice grazie Daniela per il contributo di pochissimi minuti grazie a voi e viva Leggeria viva Leggeria noi proseguiamo per andare a scoprire altre novità presentate qui al Cibus non prima di esserci rifocillati con questa bottiglia d'acqua che faccio mia da un momento all'altro grazie Daniela grazie ancora a voi e buon lavoro grazie a tutti